Fede, Sport e Natura si incontrano nel Cammino dell'Acqua, il nuovo progetto promosso dalla Pastorale Turismo dell'Arcidiocesi di Campobasso Boiano e curato dall'Associazione Dimensione Explorer. Si tratta di un percorso che si estende per 60 chilometri, da Boiano a Guardiareggia, e interessa il territorio di 12 comuni tra Natura Incontaminata e i due santuari mariani di Cerce Maggiore e Castelpetroso. La rotta, seguita dai camminatori, accompagnati da guide esperte, corre lungo il reggio Tratturo Pescassero Licandela, promuovendo il territorio e le peculiarità storiche, artistiche, ambientali e religiose. I cammini religiosi sono una grande ricchezza non solo per la Chiesa ma per tutti i territori, ha spiegato Mario Jalenti, responsabile della Pastorale Turismo dell'Arcidiocesi. La partenza è prevista il prossimo 21 settembre dalla piazza della Cattedrale di San Bartolomeo di Boiano. Dalla città matesina si proseguirà poi per San Polo Mattese. Il giorno dopo sarà possibile visitare Campo Chiaro e l'area faunistica del Cervo dell'Oasi WWF di Guardiareggia. Le iscrizioni possono essere effettuate online sul portale di Dimensione Explorer.